Siamo con Pasquale D'Urso, allenatore della Vultur, una Vultur che quest'anno sta andando davvero forte e con la vittoria di domenica scorsa in quel di Moliterno ha conquistato il secondo posto in classifica, domenica arriva l'Oppido in uno scontro diretto per le zone alte della classifica, come si appresta a disputare la sua squadra questa partita? Del resto come abbiamo fatto in tutte queste settimane, in tutto questo periodo che ha preceduto questa settimana, con il massimo impegno, la massima determinazione, certo consapevole di affrontare una partita importante perché troviamo di fronte una squadra che non dimentichiamo è stata in cima alla classifica fino a due domeniche fa, per cui è meritatamente e quindi riteniamo che l'Oppido sia una delle squadre più forti del girone e che è anche la più autorevole insieme al Picerno e al Metapondino candidata alla vittoria finale del campionato. Quindi di tutto ciò noi ne siamo consapevoli, questa è la ragione per cui ci dà lo stimolo in più per prepararci con scrupolo, con attenzione e quindi però alla stessa maniera siamo altrettanto convinti di poter disputare la solita partita generosa, la solita partita che possa in qualche maniera dare dimostrazione e conferma della bontà del del nostro gruppo, della nostra squadra. Come già detto domenica arriva l'Oppido, poi mercoledì ci sarà la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia in quel di Picerno e la prossima domenica un'altra partita dura e importante in quel di Policoro contro il Real Metapondino. Quanto sono importanti e cosa significano queste partite per la sua squadra? Tutte le partite sono importanti, però noi in questo momento non possiamo, come dicevo ai ragazzi, alla società, a tutti, non possiamo pensare tutte e tre le partite insieme. Ora ci tocca pensare esclusivamente alla giornata di domani che è l'allenamento di rifinitura in cui fare sintesi del lavoro della settimana e fare quadrato rispetto agli obiettivi che ci siamo posti per domenica e pensare solo ed esclusivamente a domenica perché è una partita, è un crocive importante contro, ripeto, una squadra tra le più importanti del girone. Per cui quello che poi sarà da domenica sera dopo Oppido sarà la proiezione della settimana prossima con l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia è altrettanto importante. La trasferta successiva di domenica prossima fuori casa li andremo a pensare e a preparare da domenica sera. Ora siamo veramente concentratissimi su questa partita di domenica per cui non abbiamo spazio per pensare a un'ora più in là di domenica alle 2.30. La partita di domenica in quel di Moliterno ha confermato ancora una volta che la sua è una squadra che merita la posizione in classifica che occupa. Ad inizio campionato lei sperava in questa posizione attuale in classifica nonostante si sapesse che la squadra era un'ottima squadra. Guardi, noi eravamo consapevoli di, io personalmente lo ero, altrettanto consapevole del fatto di mettere su e costruire prima che una squadra un gruppo di ragazzi straordinari perché la mia esperienza di giocatore prima e quella di allenatore dopo mi porta a pensare che solo costruendo una squadra, un gruppo, persone con le quali si possa avere una unità di intenti, una unità di pianificazione e programmazione unitamente alla società che è fortemente convinta di tracciare questo solco, si era convintissimi di lavorare e di andare in una direzione importante. Ora, se ti devo dire che eravamo, come dire, se avevamo la sfera magica per capire se dovevamo essere in questa posizione di classifica, certamente no, però che potevamo essere protagonisti in questo campionato assolutamente sì, chiaramente con la pazienza e con il lavoro lo si è comunque al di là dei risultati e questo è quello che io voglio rimarcare. Poi con il lavoro, con il sacrificio, con la dedizione, con la passione, con la competenza che lo staff di cui mi onoro di rappresentare mette in campo, i risultati non potranno tardare a venire. Ora, è chiaro che questo è il messaggio che mi sento di dire, cioè che fondamentalmente noi possiamo assicurare, lo faremo sempre, la massima dedizione, il massimo scrupolo, il massimo dell'impegno nella settimana per arrivare poi la domenica nella condizione giusta per affrontare ogni partita almeno alla pari con gli avversari di turno. Poi il risultato è legato a tante variabili che non possiamo condizionare sempre noi, perché ci sono anche variabili che dipendono da altri fattori, per cui quello che dipenderà da noi sicuramente sarà fatto con il massimo dell'impegno e della determinazione. Questo questo è fuori di dubbio. Siamo con Luigi Pietragalla, capitano di questa Vultour, autore del primo gol di domenica scorsa in quel di Moliterno. Una vittoria importantissima, il 3-0 conquistato al Venezia di Moliterno, che significa tanto per la classifica di questa Vultour attualmente al secondo posto. È vero Luigi? Sì, sicuramente è una vittoria importantissima per quello che ci aspetta ora, perché abbiamo altre due partite fondamentali per rimanere nelle zone alte della classifica. Domenica abbiamo affrontato nel miglior modo possibile il Moliterno, che ha comunque una squadra ben attrezzata, ma siamo andati in campo con determinazione e con la voglia subito di fare punti. L'abbiamo dimostrato dal primo minuto fino al novantesimo, non abbiamo mai rischiato nulla, mai concesso nulla e soprattutto abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa soffrire nei momenti difficili della gara e sa colpire quando l'avversario lascia qualche spazio in più. Domenica al Pasquale Corona arriva Loppido, poi mercoledì semifinale d'andata di Coppa Italia in quel di Picerno e domenica prossima sfida a Policoro contro il Metà Pontino. Tre partite cruciali che potranno dire quale sarà il futuro di questa Vultour in questo campionato. Come vi apprestate a disputare queste tre importantissime partite nell'arco di una settimana? Sicuramente la cosa importante è preparare le partite giornata dopo giornata, quindi adesso pensiamo alla partita di domenica che è quella che viene subito ed è la più importante in assoluto. Poi da domenica sera a lunedì mattina inizieremo a pensare alla partita di Picerno che è anche importante per questa Coppa Italia che ci può far regalare qualcosa di storico a questa società che non è mai arrivata in finale di Coppa Italia. Un'ultima domanda. Domenica prossima al Corona ci sarà il pubblico, come sempre una grande cornice di pubblico. Che messaggio ti senti di dare ai tifosi di Rio Nero, da Rio Nerese e soprattutto da capitano? Sicuramente il pubblico ormai ci siamo abituati, ormai ogni domenica è sempre più numeroso, ci seguono in trasfer. Domenica a Moliterno addirittura c'erano almeno 100 persone. Penso che questa cosa non si vede nemmeno nei campi di altre categorie, di categorie superiori. Quindi sono certo che il pubblico ci starà vicino dal primo al novantesimo come hanno fatto finora, nel bene o nel male. Perché comunque c'è da dire che questa squadra sta dimostrando al di là dei risultati che stanno arrivando e sono positivi finora, stiamo dimostrando comunque di avere voglia, di essere attaccati a questa maglia e soprattutto di sudarla fino alla fine. Poi ovviamente ci sono anche gli avversari, ci sono avversari attrezzati che hanno speso più di noi. Già domenica troveremo un avversario tosto che comunque viene da due partite non positive, quindi sicuramente sarà dura, ma una cosa è certa che in casa nostra venderemo cara la pelle e per gli avversari sarà più dura. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.